Ecco, questa schiuma qua fuoriesce dalla condotta del depuratore di Fusina. Siamo a Malamoco, località Canada, e da un paio di giorni c'è una draga che sta facendo un escavo per avvicinarsi al cantiere e togliere il palancolato. Ha già iniziato a togliere il palancolato e da mezz'ora a questa parte c'è questa schiuma che è fuoriuscita a questo sversamento a mare. Come si può notare, tutta la scia è affiancata alla diga e la corrente, grazie a una brezza che da terra porta fuori, scarica e va fuori. in mare aperto. Però se oggi fosse scirocco o grecale avremmo tutto sulle spiagge che ci rimane proprio a terra, a parte che parte proprio da terra. Ecco, adesso faremo la raccolta di questa schiuma con una bottiglia e poi a giorni ci dovrebbe essere goetta verde, che daremo goetta verde e ne dirà che potremmo berla. Non lo so. Cioè, mi manica altri momenti di fare questi interventi qua, in autunno, in inverno. No, si mettono in estate. Siamo in piena stagione. No, non ho pare, oggi. Ahi, tutto sei. Grazie a tutti